No, ma non pare così, ma te la faccio, sto morendo! Oh mio Dio, ho uscito il corpesso! Ma che cosa? Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nuovo video di Minecraft insieme a Bella Faccia e a Kendall, che è la giuca saltella. Kikiki, 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 kikiki! Ma dove ci troviamo oggi? Dove mi hai portato? Oh, in caverna. Eh, infatti mi hai portato in caverna, Kendall. Oh, cosa faremo oggi? Eh, mi sa che faremo proprio un gioco di chi trova prima il minerale, mi sembra di capire. Ragazzi, voi lasciate subito un bel like per questo bellissimo minigame dove vincerò... Io forse, è vero Kendall? Vincerò? Ah, non l'ho sentito, scusate. Ah, ok. Bene, io direi che possiamo iniziare, cosa dici? A te l'onore di premere quel bottone, forse. 3, 2, 1, via! Forza, via! Che vinca è il migliore! Oh, 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 oh! Non ci vedo niente. E adesso? Zombie, zombie. Ah, bisogna scavare qua? Oh mio Dio. Dobbiamo scavare, chi trova più diamanti vince. Io ho delle uova, ma li hai anche tu? Anche io. Ah, ma tu sei lì, eh? Come sei lì? Ehi, chi ha pezzato quest'acqua qua? Chi ha messo una strega lì sotto di te? Chi ha messo una strega lì sotto di te? Ahio, ma non contro di me. Chi ha messo anche questo e quest'altro, beccati. Prendi questo. No, 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 beccati questo, ma sei pazzo. No, 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 no. Eh, no, ma non vale così. Va bene, va, ci sto cuorendo. Oh mio Dio, ho uscito ormai, ma che cosa? Ok, io me ne vado, ho vinto io? Ma non hai vinto niente, un minerale, un minerale, un minerale. Ok, perfetto. Non hai vinto un bel fico secco me la faccia. Sento una strega che combatte, che cosa sta succedendo? Forza, 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 minerali, minerali. Diamante! Diamante? Oh mio Dio. Speraldo, diamante! Sto trovando tutto, sto trovando tutto. Ma dove sei? Sì, vabbè, ma non vale. Wow. Ma io su quest'acqua... Ah, sì, ossidiana. Ahio, ma chi è? Maledetto silverfish. Puoi piazzare le scale nei blocchi invisibili così blocchi l'acqua. Uh, guarda, altri minerali. No, 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 il mio peggior nemico. Forza, andiamo ad attaccare Kendall, ma dove ti trovi? Lava, ho trovato la lava. Oh, no, 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 no. Oh, cosa ha fatto? No, 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 no. Oh, mio Dio. Mi è arrivato un colpo incredibile, ho messo a cuore Kendall. No, che a me. No, 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 manca a me Kendall. No, no, no. Perdi questo. Non puoi attaccarmi a me. Oh, mio Dio. Oh, cavolo, 30 secondi. Oh, cavolo. Ma hai trovato colmen un diamante? No, non ho trovato niente. Ma come? Ma no. Mi ha fatto fuori la strega. Che vinca il migliore, me la faccia. Sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Uh, sei qua zuous Kendall, eh? Sto arrivando Beccati questo Beccati questo scheletro No 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 Attacca lo scheletro Sì 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 Bravo Bravo scheletro T'ha fatto fuori Oh mio Dio Sta finendo il tempo È finito? E adesso quindi? Vediamo chi vince adesso Chi ha preso più materiali Ho vinto io? Come? Abbiamo vinto entrambi Abbiamo vinto entrambi Oh mio Dio Ma non ci sto capendo niente Mamma mia Guarda Noi eravamo lì Guarda quelle streghe Guarda che casino che abbiamo creato Ma mandate le tue streghe Bella faccia Eh mi dispiace Eh guarda quanti diamanti ho preso io Quanti ne hai presi scusa? Eh quattro E io? Dove si vede? E tu zero Ok abbiamo scelto caverna quindi Sei pronto? Vai premi quel pulsantino Sono nato E poi sono diventato pronto Sei nato e poi pronto Oh perfetto Così almeno Oh bello Questi blocchi si distruggono subito Kenda Ma cavolo ho capito Abbiamo sbagliato tutto a fine ad ora sai? Che cosa? C'è un cartello con scritto Prendi i punti Non appena tu hai i blocchi Clicca quel cartello E ti dai i punti Oh Cioè fino ad ora Non abbiamo collezionato neanche un punto Forse guarda No porca miseria Guarda ne ho dieci Ne ho dieci Sì ne ho dieci Guarda guarda Sto scavando Vai di sotto Vai di sotto No 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 Quel cartello è mio hai capito? Pam Presidio tredici Guardate questo barone Ah ma cosa è barone? Scusa Non è giusto Ti devo risuperare Sicuramente Abbiamo cinquanta scale adesso comunque Oh finalmente Prima non ne avevamo neanche una Diamanti 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 Ti sta bene, ti sta proprio bene Mi sa che morirò bella faccia, mi sa che morirò Sono morto, addio Quindi ho vinto io Ho perso tutto Oh mio dio Ma non può essere Io sto facendo un sacco di punti No Ma cosa, sei a 15 Un sacco di punti cosa Nei due più di me Oro, diamante, diamante, diamante Facciamo una cosa Tieni questo zombie Ci hai chiamato via Quale zombie Non venire da me È arrivato il momento di salire Vai contro Kendall Usa le scale per salire Usa le scale, usa le scale, usa le scale Usa l'ingegno Rompi tutto Dobbiamo andare su No, non puoi vincere te Kendall Posso e devo No, non devi, non devi 10 secondi, ma non ce la farò mai Fammi premere Guarda, 35 E adesso Kendall Chi ha vinto Chi ha vinto No, no, no Aspetta No Il vincitore È Bella faccia Ti piace vincere facile Sono morto Sì, sì, sì Proprio così Sono io il vincitore Uffa Forza premi il bottone ragazzo Vediamo se sarai fortunato Ho selezionato il mondo del nere Oh, ma che cosa Ma, ma Ma c'è già la lava Ma sono andato nella lava Sì Ma guardate No, 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 anch'io Sì, ma dai Ma guardate Hai scelto un mondo difficilissimo Ah, però la lava è andata via Eh, certo La puoi togliere Forza, forza Del quarto Oh, luminite Luminite Chissà se dà dei punti questa Ma certo che dà dei punti Ma vado ancora a fuoco Oh, luminite Questa volta ti batte No, 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 lava Lava, 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 lava No, 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 no Lava come lava Lavala, lavala Guarda, prendo questo Prendo questo Prendo questo Ormai sono un campione Pensi di vincere, Kendall Ma non puoi niente Non è che pezzo Io sono sicuro di vincere, guarda Ma guardate Questa lava Non la sopporto più Basta Ma sto andando a fuoco Piazza le scale così No Sei morto Ah, sì Però Oh, no, ma non hai punti Ma mi ha mangiato tutti i miei punti Ma non è giusto Oh, no Sì, vabbè, ma così sanno fare Bam, 26 punti Sanno fare anche i gatti così No I gatti Non ho mai visto un gatto giocare a Minecraft Io sono messo malissimo Sono messo decisamente male Perfetto È quello che ti meriti per avermi battuto prima Allora, un altro, un altro qua Sì, vabbè 26 a 0 Hai scelto Hai scelto una mappa orribile Se lavo ovunque, guarda Non riesco a fare niente Eh, piazza le scale e la togli L'hai fatto apposta No, dai Sono morto Ti sto bene, l'hai fatto apposta Mi diamanti, da mi diamanti No, 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 no Signor Pollesco Signor Pollesco Signor Pollesco Eh, mi sa di sì, eh Ma guardate 49 Com'è possibile Prendi questo zombie E prendi questo scherzo Ma beccati Ma beccati Dagli un bacino allo zombie Ha vinto Ha vinto Dai, facciamo l'ultima Vediamo chi è il più forte Ok, stavolta scegliamo questa Quale, scuso? La shaft Oh, la shaft La scha-shaft Oh, oh, oh Ok Sono in acqua Ma che Ti sta bene Danno presidenza ai più forti Ma chi sono i più forti? Eh, più deboli volevo dire Ah, ok Io quindi Cioè, tu quindi Forza, forza, forza Dai, dai Gli abbiamo fatto perdere tempo Ma cavolo Ma non è giusto Io sono bloccato Qua è pieno d'acqua Ti sta bene Che si impari a barare Come faccio a toglierla? Forza, forza, forza Devo vincere io Eh, come fai a toglierla? Con le scale forse Ma non si toglie Ok, ce l'ho fatta Ok, ok, ok Ci siamo ragazzi Uno Guarda quanti punti Una cassa Cosa c'è? Oh mio Dio Dei diamanti Una cassa vale un sacco Sì, 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 sì Eh, ma stai scavando Nel mio territorio Questo è il posto mio Dai, dai, dai Andiamo, andiamo a prendere Uh, là c'è un altro Che sta minando Guarda Ma chi? Eh, non te lo dico Non mi distrarre Forza, forza Vediamo Guarda quanto sto, Kendall 30 Quanto? Da 7 a 0 Eh, sì, sì, sì Non per molto Guarda, sto tornando 37 a 0 Punti, 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 punti Ecco, 7 7, wow Wow, Kendall Con 7 puoi comprare le gole d'or Aspetta, no, 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 no Non mi puoi battere così Eh, vattene via da questa caverna È mia Con 7 si può comprare Due gole d'or Quanto, eh Oh, cesta Una cesta Ancora Sì, sì, sì Scavalì, scavalà Un'altra cesta Di miei punti Un'altra Oh, mio Dio Sei pronto a vedere quanti punti sto per fare? Eh, sei saloso dei miei punti? Di punti per di punti 39 sto vincendo Sì, sì, guarda adesso cosa succede 39 a 37 Fatta pam Cosa? 101 101 Oh, mio Dio Hai mai trovato due ceste Ma non è giusto Ho trovato due ceste Che è da là Ma allora sei un fortunello, dai Ho trovato due ceste Ho trovato due ceste Come faccio a batterti? Sei vero che chi perde deve fare da mangiare per un mese all'altro? Sì, 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 non esiste Ah, va bene, ti faccio il cibo avvelenato No, no Oh, vittoria Eh, 101, 43 Ma ci sembra giusto Ma ci sembra giusto Fartissimo, sì Un'intervista a Kendall Cosa si prova ad arrivare, secondi? No, Kendall, non fare così No, Kendall No, andiamo a prendere il gelato adesso, ok? Vuoi il gelatino? Ti piace? Sì, ti piace il gelato No, commenta Andiamo a prendere il gelatino Ragazzi, per oggi è tutto Da me e da Kendall Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo domani con un nuovo bellissimo video Ciao 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 Grazie per la visione!